Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui oggi anche con un altro titolo appena uscito che è Dragon Age Inquisition, nuovo titolo della Bioware, è in linea temporale il terzo titolo della serie Dragon Age dopo un primissimo capitolo che per me è stato straordinario un secondo molto molto meno rispetto al primo, questo invece sembra essere tornato agli albori, ai fasti di un tempo speriamo, lo vorrei iniziare insieme a voi, spero che vi possa piacere l'idea magari di fare una serie lo so che è un titolo molto particolare perché è un GDR quindi molto lungo, molto complesso e ampio però magari una mega serie on, se vi fa piacere possiamo portarla avanti ancora non ho provato niente, ho messo tutti i settaggi su Ultra quindi siamo su PC siamo al massimo del dettaglio, spero il mio PC ce la possa fare comunque andiamo con una nuova partita ok, importa personaggio, non credo ci riesca perché perché io il primo e il secondo li ho giocati su 360 quindi adesso siamo su PC allora seleziono una razza e aspetto, allora umano, quella degli umani è la razza più numerosa e potente del TEDAS ma anche la più divisa politicamente sembra anellare al conflitto i personaggi umani ricevono un punto abilità bonus all'inizio del gioco gli elfi, gli elfi fanno parte di un popolo storicamente oppresso distinguibili dalle orecchie a punta e dalla corporatura minuta molti di essi versano in condizioni di estrema povertà ai margini della città umane ma esistono anche degli elfi nomadi chiamati Dalish gli elfi ricevono un bonus del 25% alla difesa a distanza attenzione il nano i nani sono bassi Tozzi e la maggior parte trascorre la sua intera esistenza nel sottosuolo coloro che vivono in esilio e in superficie sono generalmente mercanti o contrabandieri i nani non possono essere maghi non avendo alcuna affinità con l'oblio ma ricevono bonus del 25% alla difesa magica e poi ci siamo i kunari i kunari sono dei giganti muniti di corna che seguono la rigida dottrina religiosa del kun chiunque rinneghi i principi del kun diventa un tal Vashot e spesso trova impiego come mercenario i personaggi kunari ottengono un bonus del 10% di resistenza ai danni fisici allora io nei passati ho sempre preso il nano facevo il nano da battaglia adesso però mi intriga anche il kunari non saprei allora elfi ma andiamo col nano andiamo col nano da battaglia nano cazzuto e cattivo ma si facciamo il nano da battaglia attenzione vai così ladro due armi i ladri si affidano a velocità e agilità piuttosto che alle armature pesanti sfruttano le proprie capacità e trovando le migliori posizioni sul campo di battaglia per infliggere danni devastanti possono colpire da vicino con i pugnali e da lontano scoccando frecce micidiali poi abbiamo ladro arciere i ladri si affidano a velocità e agilità ok scoccano frecce micidiali guerriero arma a due mani i guerrieri combattono in prima linea protetti da armature pesanti che consentono di resistere a danni ingenti possono brandire armi a due mani come maglie e spadoni oppure usare armi più piccole accoppiate a uno scudo questo ci piace guerriero arma e scudo i guerrieri combattono in prima linea protetti da armature pesanti che possono brandire armi a due mani come maglie e spadoni oppure usare armi più piccole accoppiate a uno scudo ok praticamente sono uguali guerriero arma a due mani guerriero arma e scudo io farei il nano da battaglia proprio che dite? nano da battaglia tanto comunque possiamo usarlo lo scudo vai col guerriero con cattiveria seleziona la difficoltà facile normale difficile o incubo allora ragazzi io sinceramente non so se fare normale o facile più che altro perché vorrei andare avanti abbastanza speditamente visto che abbiamo comunque molti giochi da fare molte serie questo essendo abbastanza lungo non saprei o normale o facile che dite? facciamo normale? vabbè dai proviamo normale tanto credo che nel caso si possa anche cambiare difficoltà perché il personaggio non so se possa essere cazzuto o cattivo ok nano del carta i nani del tedas sono noti per il loro un tempo per il loro un tempo vasto impero sotterraneo e per le guide per le gilde di mercanti e guerrieri tenute in grande considerazione dalle altre razze questo non è il tuo caso tu sei un nano di superficie disprezzato tanto dai tuoi simili quanto dagli umani bene partiamo alla grande per sopravvivere hai dovuto contrabbandare un minerale magico chiamato l'irium per l'organizzazione criminale del carta in quanto membro della spietata famiglia dei kadash hai vissuto per le strade di varie città stato dei liberi confini fino al giorno in cui sei stato inviato a spiare il conclave della chiesa il giorno in cui la tua vita è cambiata per sempre ok siamo sulle palle a tutti bene importa assetto del mondo vuoi importare assetto del mondo personalizzato da dragon age keep ma non l'ho giocato io dragon age keep a meno che non mi ha salvato vabbè famo no non vorrei facesse qualche danno assetto del mondo predefinito conferma per importare uno stato del mondo personalizzato dragon age keep eh ma io non so se lo ha salvato in qualche modo andiamo così predefinito vediamo se se il nostro pc gliela fa al massimo dei dettagli tutto ad ultra spero di sì e spero che questa serie vi possa intrigare ragazzi con il nostro nano da battaglia ci vuole un gdr con un nano da battaglia dai ci sta tutto ci punto molto su questo dragon age inquisition perché il primo come vi dicevo mi è piaciuto tantissimo quindi spero che questo sia all'altezza del primo capitolo e non come il secondo che è stato un po' un falso passo per la bioware siamo noi attenzione il nano ma cos'è ma non lo voglio biondo posso personalizzarlo per favore mamma mia che soggettone ok testa attenzione personalizzazione del nostro nano testa 1 testa 2 testa 3 testa 3 e 5 no questo è troppo fine questo questo sembra abbastanza cazzuto anche se è pure il primo comunque lascia fare questo mi sembra più un nano da battaglia personalizza però generale forma del volto vediamo un po' allora per adesso siamo così allora o così o così questo c'è il capoccione fammolo così dai carnagione no carnagione niente oddio bianco bianco no facciamolo una via di mezzo così oppure ma posso fare pezze rosce come Arturo incarnato cioè ha il tipo di pelle vediamo un po' no lo dobbiamo fare un po' rude perché il nostro è un nano da battaglia così colore degli occhi attenzione il signor nano vediamo un po' facciamo così perché azzurri mi sembra poco da nano vediamo lo farei più con gli occhi scuri dai così ci può stare capelli attenzione nano partiamo dal primo ecco avrei preferito ad esempio ad es mamma mia avrei preferito avere un numero per ricordarsi magari qualche ma che cos'è per ricordarsi che c'è la leccata di vaca nano no così è imbarazzante sembra una donna degli anni 60 cos'è guardalo lì che nano attenzione voglio le trecine da nano io no particolare però un po' poco nano stempiato anche no non ci sono i capelli che mi piacciono che cos'è nel primo ho fatto un nano cazzuto e cattivo quindi lo facciamo imbarazzante o una cosa del genere ma io opterei per l'imbarazzante no così è troppo fattorino mamma mia guarda col riporto il nano il nano da riporto allora ho questo oddio anche questo ma che cos'è attenzione guardatelo no così è un po' troppo allora aspettate se dobbiamo farlo imbarazzante lo facciamo così che dite il nano con riporto si si con la leccata di vacca grande nano allora capelli colore capelli ma no rosso deve essere il nano il nano ha i capelli rossi attenzione quello va bene secondo me così barba la barba anche la vogliamo per adesso questa andrebbe bene però se ci abbiamo qualcosa di più col baffetto così anche aspettate facciamo una cosa andiamo un po' no le trecine da nano si 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 aspettate diamo un'occhiata velocemente allora quelle fi potrebbero essere anche il baffone da da camionista oppure il nano con le trecine baffone da camionista che dite dai così sembra un tipo da taverna mamma mia però il capello è veramente imbarazzante mamma mia questa non si capirà un cazzo ma va bene non lo capirà nessuno aspetta non era questa giovane aspetti ah due ce n'ha questa è più cattiva prima me l'avevo messa dall'altro lato ok voce si grande nano quindi va bene così con la leccata di vacca che dite ragazzi il nostro nano camionista con un certo stile nel capello ok test e orecchie attenzione qua la personalizzazione da panico dimensioni orecchie aspetta come mamma mia attenzione così fermiamo il vento si ci piace posizione orecchie vabbè ci possono stare così ma non esageriamo lobby ah possiamo solo fare una cosa del genere facciamo con le orecchione zigomi aspetta no che cos'è l'hanno preso a cazzotti in bocca no va bene così forma delle guance no no il nostro deve essere bello pacioccone bello in forma dimensione arcata si così bello bello gioviale no così sembra un po' ritardato somiglia un po' a bush con quella fammolo così dai un po' gioviale un po' rincoglionito mamma mia che orecchie con queste fermiamo tutti gli incantesimi eh attenzione forma degli occhi aspettate ma che c'ha il trucco ma che cos'è lo facciamo così un po' ciecato si si va bene dimensioni occhi no così proprio ciecato di brutto posizione occhi aspetta giovane cos'è no una via di me come stava prima maledizione così rotazione distanziamento occhi no troppo uniti no se no che così stile sopracciglia lo vogliamo cazzuto e cattivo no che cos'è sta roba brutta questo ci piace è abbastanza agricolo attenzione il ciglio il monociglio anche momento venga qui nano allora ho questo o il monociglio il monociglio si 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 ci piace il monociglio spai momento posizione sopracciglia alte o basse stile ciglia vabbè le ciglia non si vede tantissimo cos'è si imbarazzate va bene è così colore iride esterno attenzione no vabbè questo lasciamo così che non si vede una sega tanto va bene naso mamma mia che naso questo ci potrebbe stare però se ce n'è uno più grande eh che cos'è mamma mia aspetta vediamo se ce n'è qualcun altro questo questo grandissimo dimensioni naso credo che stiamo già abbastanza perfetto perfetto posizione naso no va bene così il naso oppure no che cos'è così pare che c'è la puzza sotto il naso cos'è grandissimo dimensione dorso del naso facciamo un po' a gobbona mamma mia dorso nasale si 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 mamma mia quanto è brutto però è simpatico dai dimensioni della punta del naso sfracchiata o sfracchiata sfracchiata un po' era pugile un ex pugile non so posizione punta del naso così dimensioni narici mamma mia ti dà una nasata sto nano naso rotto mamma mia no vabbè così si esaggia poi pare a bevana ok bocca mamma mia guardatelo ma quanto è nano ok il naso forse un po' bruttino forma a bocca ok ha vinto larghezza a bocca così un po' sorridente posizione bocca attenzione così spessore delle labbra ma si così va bene profilo della mascella no no facciamo mascellone attenzione attenzione dimensioni della mascella si guance lo possiamo fare paciocone no in realtà non tanto facciamo così dimensioni mento così un bel mentone sembra quasi il padrino mento no così sembra ritardato attenzione o così o così così si doppio mento mamma mia ma che è pomodadamo appuntito no facciamo una via di mezzo dai pomodadamo ok mamma mia guardatelo che tipo e che cos'è cicatrici e tatuaggi cicatrici già ce n'ha un fottio no vabbè lasciamo lì con le cicatrici di base intensità cicatrici ah così meno così no così è troppo che cos'è nostro posizione orizzontale ah li sposta un po' no dai va bene così tipo di tatuaggio tatuaggio a quello lì vediamo cosa possiamo fare eh non troppo tatuato perché poi non si apprezzava la faccia del nostro nano no forse andava bene quello lì semplice ma che dite così è troppo sì mettiamogli questo dai tipo di tatuaggio vediamo cos'altro c'è ci vediamo un po' anche questa personalizzazione colore tatuaggio va bene così dai il trucco attenzione colore ombretto ma che cosa no intenzione colore occhiaie le occhiaie sì lo vogliamo eh ma non posso togliere bianco aspetta vediamo un attimo che eh così forse non no cos'è aspetta color carne c'è una cosa eh così forse è come se non ce lo avesse diciamo colore occhiaie ma non ce l'ha le occhiaie non è stanco il nostro bene colore arco sopracciglia intensità no va bene così ma io direi che a questo punto ci siamo eh guardatelo mamma mia che naso ti dà una nasata ti stende guardatelo attenzione se ci piace accettiamo le modifiche attenzione il nome del nostro personaggione lo possiamo chiamare tipo Pino che dite ci sta Pino oppure Peppino Peppino il nano malandrino chiamiamolo Peppino dai Peppino accettiamo grande Peppino guardatelo mamma mia Peppino il nano sbarazzino ce ne stanno tante con Peppino grandissimo il nostro nano cercheremo di farlo il degno erede di del nostro Arturo corri corri Peppino corri corri pure nano c'ha le gambe corte pazza zozzeria dai Peppino devo controllare se ho messo i sottotitoli tra l'altro e spero che non vada a scatto il gioco magari proveremo adesso come detto ho messo tutto ad ultra tutto al massimo quindi dobbiamo un attimo testarlo insieme siano qui le avventure del nostro Peppino per il resto non so quanti di voi abbiamo giocato gli altri Dragon Age se vi sono piaciuti o meno il primo lo consiglio a tutti quanti tutti gli amanti almeno vagamente del genere lo consiglio assolutamente allora diciamo che non è fluidissimo proprio c'è una leggerissima scattosità poi perfezioneremo un po' l'aspetto grafico strada facendo per trovare un buon rapporto qualità fluidità dai guardalo e che cos'è salve mi chiamo Peppino perché mi chiamo Peppino allora clicca per selezione una risposta dialogo premi rapidamente allora sono morti tutti orribile mi ritenete responsabile resti in silenzio mi da anche del lei perché Peppino giustamente restiamo in silenzio ciao una ma non te la prende con Peppino guardalo in alcuni dialoghi puoi rispondere emotivamente alle varie situazioni che si presentano in questi casi delle icone speciali evidenziano le emozioni legate alle risposte liberatemi adesso e adesso quindi so what happens now do you remember what happened how this began I remember running things were chasing me and then a woman a woman she reached out to me but then go to the ford camp Liliana mi sembra un po' eccessivo siamo leggermente miopi mi sembra abbiamo dei problemi di vista we call it the breach it's a massive rift into the world of demons that grows larger with each passing hour it's not the only such rift just the largest all were caused by the explosion at the conclave an explosion can do that this one did unless we act the breach may grow until it swallows the world each time the breach expands your mark spreads and it is killing you it may be the key to stopping this but there isn't much time indaga la chiave di tutto ma che è colpa mia scusi signori c'è forse un'alternativa cassando disapprova sti cazzi solo perché sono nano maledetta e solo perché ho le orecchie a sventola e non ci vedo benissimo e ho un naso un po' imbarazzante e i miei capelli? che ne dite dei miei capelli? non ci vedo benissimo ma 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 Guardate quanto è puccioso il nostro nano Eeeh che cos'è? Panico, allora Angiungi lo squarcio, un momento Quas per muover Q e D per spostarti lateralmente Puoi anche guardarti intorno mantenendo e muovendo il mouse Mentre ti guardi intorno con il mouse puoi spostarti lateralmente con A e D Allora, quindi posso... Mamma mia il nostro nano da panico Allora, di solito si è anche così la visuale Possiamo anche avvicinarla al nostro nano da panico Eeeh L'agilità del nano Attenzione, che fa? Mi segue signorina? Che non si fida del nano? Guardate quanto è puccioso però Attenzione Allora ragazzi io direi che Siccome siamo andati un po' per le lunghe anche con la creazione del personaggio Ci possiamo salutare qui Con il nostro peppino, il nano sbarazzino Eeeh Ci vediamo con il prossimo episodio Che magari cercherò di portarvi il prima possibile Spero che l'idea di questa serie su Dragon Age Inquisition Vi possa piacere Faremo un po' di promo e vedremo un po' se il gioco va bene Se vi può piacere L'idea di farci una mega serie con il nostro nano Eeeh Mi raccomando come sempre commentate Fatemi sapere la vostra Se potete condividete la creazione del nostro peppino E ci vediamo allora con il secondo episodio Spero il prima possibile Eeeh Se potete seguitemi anche sulla pagina Facebook Dove magari metterò qualche avviso eccetera eccetera E ci vediamo con il prossimo episodio Un saluto a tutti da Quel Taleale